Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. In primo piano parliamo del piano urbanistico per il quartiere Iapigia nell'area che sarà toccata dal progetto di Costa Sud. Sappiamo che i lavori inizieranno a breve, però nel frattempo il Comune rivede completamente l'assetto urbanistico del quartiere con il documento che poi dovrà passare al vaglio dei municipi e del Consiglio Comunale. Sentiamo. Uno dei più importanti segmenti dell'operazione di ricocitura tra la città e il mare è un'anticipazione del Pug. Il sindaco di Bari Antonio De Caro ha presentato il piano urbanistico dell'area che sarà toccata dalla riqualificazione di Costa Sud. Parliamo di una fetta di città da 935 ettari dove vivono 27.400 abitanti. L'obiettivo è stato sancire un patto città-campania in cui alcune aree che sarebbero state oggetto di edificazione come le lottizzazioni delle maglie 21 e 22, Punta Perotti e Torre Carnosa verranno spostate attraverso il meccanismo della perequazione in zone per taluni casi con maggiore valore economico con una riduzione complessiva dei volumi del 49,99% rispetto al vecchio piano regolatore arrivando a 1.245.000 m3. Stesso dicasi per il consumo di suolo di 91 ettari. Per De Caro questa pianificazione urbanistica serve a contrastare il degrado fisico e sociale dell'area ponendola come grande sfida per il futuro rilancio della città. Ovviamente si tratta di un'operazione strettamente collegata anche alla trasformazione della viabilità con lo spostamento dei binari. Il progetto sarà ora trasferito ai municipi per poi passare al vaglio del Consiglio Comunale. Oggi abbiamo presentato un piano urbanistico esecutivo di Costa Sud. La vera sfida della città, la ricucitura urbanistica e sociale, la ricucitura del rapporto tra la città e il mare è in tutta la zona sud con la previsione di un parco costiero di 6 km da Pane e Pomodoro-Terrequetta fino a San Giorgio. La conservazione di quelle che sono aree agricole nel patto tra la città e la campagna, la conservazione del reticolo agricolo di collegamento tra la strada di Via Gentile e il lungomare della nostra città attraverso un piano urbanistico che prevede di spostare la capacità edificatoria, cioè quelle volumetrie, dalle zone che invece vogliamo preservare, la campagna, la costa, le lame, in alcune zone della città, Iapigia, con una forte riduzione del volume. E ora invece la cronaca con gli sviluppi dell'omicidio di Giacomo con il fisioterapista ucciso lunedì sera sotto la sua abitazione. Oggi pomeriggio ai funerali nella chiesa di Santa Fara, ce ne parla nel servizio Cristina Ferrigni. Si stringe il cerchio sull'omicidio di Mauro Di Giacomo, il fisioterapista ucciso a colpi di pistola lunedì sera mentre rientrava a casa in Via Tauro, nel quartiere Poggio Franco. Ancora bocche cucite da parte degli investigatori della squadra mobile che indagano sul delitto, ma l'assassino sembra avere le ore contate. All'esame degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nelle strade circostanti luogo del delitto e che dovrebbero aver immortalato l'auto utilizzata dal sicario. E poi le dichiarazioni rese alla polizia ad alcuni testimoni oculari che avrebbero visto la lite tra Di Giacomo e il suo killer. Discussione avvenuta poco prima dell'uccisione. Il fisioterapista, lo ricordiamo, è stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola calibro 7,65 ed è morto dopo pochi minuti per shock emorragico. Prima era stato picchiato violentamente dall'uomo incappucciato che lo aveva aspettato nel parcheggio di fronte alla sua abitazione. Il movente del delitto legato dunque ad una questione personale. Qualche settimana prima dell'omicidio una lettera anonima priva di minacce era stata fatta recapitare nello studio privato in cui Di Giacomo, impiegato part time al policlinico di Bari, lavorava. I funerali dell'uomo sposato con due figli sono oggi pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di Santa Fara a Bari. E adesso proseguiamo parlando invece di economia, della situazione in Puglia. I dati Istat che dicono che il PIL è in crescita. Vediamo i numeri nel servizio. Un PIL regionale cresciuto del 5% nel 2022. Il dato più alto tra le regioni del Mezzogiorno è il sesto in Italia. Il report annuale dell'Istat sui conti economici territoriali testimonia una crescita della Puglia rispetto all'anno di riferimento 2015 di 3,659 miliardi di euro, passando dai 72,609 miliardi del 2021 ai 76,268 del 2022. Supera la performance di crescita nazionale con un più 3,7%. Cresce il reddito disponibile delle famiglie consumatrici e il tasso di crescita in volume della spesa per i loro consumi finali passa dal 3,8% del 2021 al 6,1% del 2022 allineandosi alla media nazionale che è del più 6,1% rispetto al 2021. Questi numeri, ha commentato il Presidente Michele Emiliano, rappresentano una soddisfazione e a questo aggiungiamo un altro dato di questi giorni che riguarda l'occupazione. Nel terzo trimestre del 2023 gli occupati sono aumentati di 31 mila unità rispetto all'analogo trimestre del 2022, facendo crescere il tasso di occupazione dal 49,6% al 51%. E torniamo di nuovo in città perché ieri è stata inaugurata la pista di pattinaggio a Bari in centro. Andiamo a vedere un po' quali sono state le prime emozioni soprattutto dei ragazzi che si sono approcciati a questo sport sul ghiaccio nel servizio di Giuseppe Bellino. Una distesa di ghiaccio pronta per essere percorsa da bambini e adulti, un'iniziativa per ricreare l'atmosfera natalizia. È stata inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Umberto a Bari. L'attrazione completa così il villaggio di Babbo Natale che dal 6 dicembre accoglie centinaia di bambini con spettacoli, laboratori e attività tutti adulti e piccoli. Dai tre anni in su potranno divertirsi ogni giorno fino al 14 gennaio. Il costo di un giro da mezz'ora sulla pista di pattinaggio è di 6 euro, mentre per un'ora basteranno 8 euro. Pochi minuti dopo l'apertura decine di bambini hanno colto al volo l'occasione di pattinare sul ghiaccio e respirare l'atmosfera natalizia. Beh sì, è un'opportunità in più per chi viene a visitare il villaggio di Babbo Natale a incontrare Babbo Natale e i bambini. Oggi c'è la possibilità anche di pattinare sul ghiaccio. Una sfida nata un po' di anni fa a Bari città sul mare, città di mare, ma anche la pista di ghiaccio. E ora proseguiamo invece con il nostro sito web. Tutti quanti gli aggiornamenti dalla rete nel servizio. Andiamo, scusate, con il nostro Tiziano Tridente, con la nostra redazione web. Sì, eccoci Roberto. In primo piano sul nostro sito la cronaca con un ragazzo di 25 anni, di nazionalità straniera e irregolare sul territorio italiano, arrestato ieri sera dalla polizia locale per rapina, reato che sarebbe stato commesso con l'aggravante della violenza nei confronti di una ragazzina di soli 17 anni. I fatti contestati al ragazzo sono accaduti in Piazza Moro, vicino al McDonald's, dove per rubare l'iPhone all'adolescente il 25enne l'avrebbe prima strattonata e poi schiaffeggiata. Una volta perso il cellulare il rapinatore si è dato alla fuga, un tentativo cancellato dal pronto intervento della polizia locale. Restiamo sulla cronaca con i controlli della Guardia Costiera sui prodotti ittici, operazione di carattere nazionale che a Bari, durante alcuni controlli su strada, ha portato al sequestro di oltre 400 kg di ostriche e 75 kg di murici non tracciabili che erano all'interno di un furcone isotermico. Chiudiamo con il Capodanno a Bari, Coez, Fraquintale e Dermalmeta sono pronti ad animare il concertone dell'ultimo dell'anno. Il grande palco di Piazza Libertà ovviamente sarà allestito con alcuni giorni di anticipo e per facilitare le operazioni di montaggio, le limitazioni al traffico studiate per il centro cittadino partiranno già da mercoledì 27 dicembre. A queste si aggiungeranno quelle pensate per fare in modo che l'evento del concertone si possa svolgere in massima sicurezza sul nostro sito, quindi tutti i divieti certificati da un'ordinanza che modificherà la viabilità fino al 4 gennaio. A te! E torniamo a parlare invece di San Nicola, o meglio, se ne parla all'interno di un libro San Nicola di Bari. Vediamo il servizio. Si intitola San Nicola di Bari e sarà in edicola sabato 23 dicembre. Il libro sul patrono del capologo pugliese, firmato da Repubblica Bari, torna a far compagnia allo storico quotidiano durante le festività natalizie. Il giornale ha infatti deciso di mandare in ristampa il volume sul santo più amato dai baresi per trasmettere un messaggio di luce e di speranza. San Nicola, oltre ad essere il più venerato del mondo, è una vera e propria raffigurazione dell'integrazione. Il libro è un percorso in sedici tappe alla scoperta o alla riscoperta dell'origine di questo legame indissolubile tra la città e il suo santo che va ben oltre le leggende, le tradizioni o i miti più recenti e commerciali che lo vogliono legato alla figura di Babbo Natale. È legato indissolubilmente alle festività natalizie, o sarei dire di tutto il mondo. Sappiamo benissimo la tradizione di Santa Claus, e quindi anche la venerazione che vi viene profusa nei paesi dell'est. Abbiamo deciso di ripubblicare, fare la ristampa del libro su San Nicola, innanzitutto per la grande richiesta che abbiamo avuto. E in secondo luogo perché i libri di Repubblica, siamo arrivati all'undicesimo, che sono dati in regalo ai lettori che vanno in edicola, questo uscirà sabato, sabato 23, rappresentano una testimonianza delle identità del territorio. E quindi chi più di San Nicola è l'identità di Bari, un'identità fortissima. E ora invece scopriamo quali saranno gli eventi di questo fine settimana nel servizio di Giuliana Vendola. È arrivato finalmente il Natale, e la Puglia si prepara a festeggiare il weekend più atteso dell'anno in grande stile. Tanti gli eventi nel Barese e nelle altre province. Ecco alcuni spunti della nostra consuetà rubrica. Il Natale a Bari si sente dappertutto, e va ben oltre il semplice aperitivo nelle zone della Movida, portando i festeggiamenti anche sulla spiaggia. Il 24 e il 31 dicembre sarà infatti possibile godersi, fin dalle 11 di mattina, panzerotti, bombette e spaghetti all'assassina a fronte mare, sulla riva di Torre Quetta, dove verranno allestiti alcuni chioschi che proporranno a piatti tipici pugliesi. Sempre nel capoluogo di regione, dal 21 dicembre al 4 febbraio, in Via Napoli, torna il Circo di Donna Orfei. L'arte circense di Happy Circus sbarca a Bari dopo Trani e Monopoli, promettendo di regalare emozioni a grandi e piccini. Di presepi viventi ne sentiamo tantissimo parlare ultimamente, ed è ormai possibile visitarne quasi ovunque lungo il tacco d'Italia, ma unico nel suo genere imperdibile resta quello di Pezze di Greco, frazione di Fasano nel Brindisino. Si tratta della 35esima edizione di un percorso di quasi due ore negli anfratti rupestri del villaggio, dove vi saranno circa 500 figuranti che rappresenteranno 23 immagini di vita contadina. Il 23 dicembre torna la tradizionale Notte dei Fornai dell'antivigilia di Natale a Toritto. A partire dalle ore 18, in piazza Aldomoro, si terranno molti appuntamenti. In primis tra tutti, la storica questua della cittadinanza torittese, che vede protagonisti, cantori e suonatori popolari. E' grande attesa invece per le festività natalizie. Andiamo a vedere un po' in questo stralcio tratto dal nostro Buongiorno Bari, quali saranno le condizioni meteo per questi giorni di festività. Oggi è il primo giorno d'inverno astronomico, quindi passiamo dall'autunno, c'è il passaggio di consegne tra l'autunno e l'inverno, ma un passaggio di consegne abbastanza tranquillo, a parte la parte tirrenica, la Sardegna, la Corsica, tutta la fascia tirrenica, c'è del forte vento di Maestrale. A noi ce la siamo cavate, ce la caderemo ancora, con un vento sulla variabilità come direzione. E' temperatura molto gradevole. Toccheremo anche i 17-18 gradi a partire da oggi e nei prossimi giorni. Queste mattinate saranno, direi, con temperature frizzanti, tra i 4 e i 6 gradi, perché non vi sono nubi, non c'è copertura nuvolosa, quindi tutto quel poco calore che la Terra prenderà durante il corso di giornata, lo andrà a liberare nelle notturne ed ecco che la mattina farà abbastanza freddo, però poi diciamo che nel corso della giornata i 17-18 gradi abbastanza gradevoli per tutte le attività che saranno nel clima natalizio, già da domani, sabato, e poi il 24, il classico aperitivo in centro. Insomma, c'è da divertirsi, almeno gli ombrelli li metteremo, di butteremo da qualche parte. E ora proseguiamo con le notizie che ci arrivano dalle altre province. Andiamo a Foggia, dove parte dalle periferie la nuova giunta guidata dalla Sindaca Episcopo tra le misure previste all'assunzione a tempo pieno di 21 nuovi agenti della Polizia Locale e un maggior coinvolgimento delle realtà sportive e delle attività produttive della città. Ci parla di tutto Nicola Saracino. Parte simbolicamente dal quartiere Candelaro, la giunta guidata da Maria Aida Episcopo. La sindaca ha voluto che il primo incontro si tenesse nella sede della prima circoscrizione Croci per dimostrare attenzione alle periferie e ai bisogni dei cittadini. Tra le misure più attese, quelle riguardanti la cultura, a partire già dalla vigilia di Natale. Abbiamo cercato di rendere questa giornata quanto più possibile la celebrazione della bellezza e della storicità e della particolarità della nostra città perché per tutti la vigilia, si sa, è il giorno più bello dell'anno e quindi abbiamo impostato innanzitutto il trasporto pubblico gratuito per incentivare il non utilizzo delle auto in questa giornata molto piena di persone e abbiamo intensificato il servizio di raccolta rifiuti, abbiamo aperto il museo civico gratuitamente dalle 9 alle 17, abbiamo organizzato delle visite gratuite degli ipogei e della villa, dei centri di interesse storico-culturale della nostra città. Una politica che sarà votata all'ascolto e alla trasparenza come ha sottolineato l'Episcopo che ha presentato la squadra degli otto assessori che l'accompagneranno nel lavoro dei prossimi cinque anni. Il nono, l'assessore ai lavori pubblici e urbanistica Giuseppe Galasso, si aggregerà all'esecutivo comunale a partire dal primo gennaio del nuovo anno. Tra le misure, prevista l'assunzione a tempo pieno di nuovi 21 agenti della polizia locale e un maggior coinvolgimento delle realtà sportive e delle attività produttive di Foggia. E proseguiamo spostandoci a Taranto dove presso il parco Iannelli di Via Lago Lugano sono state inaugurate le nuove attrezzature sportive volute dalla WISP. Un esempio virtuoso di rigenerazione urbana grazie al progetto Sport Civico. Ce ne parla in questo servizio Angelo Ingenito. Uno, due, tre, via! Nei giardini di Parco Iannelli a ridosso di Ghiattica, a Taranto II è stata inaugurata la struttura finanziata con un contributo di sport e salute attraverso un bando che è stato vinto dal Xen provinciale e che pone Taranto in una lista esclusiva di otto comuni. È il primo passo di un intervento che coinvolge anche la WISP Taranto che ha allestito il perimetro della rotonda con ulteriori attrezzature ginniche fisse. Presidente Luca Oggenti, un esempio di rigenerazione urbana a favore dello sport per i bambini, per i ragazzi? Sì, rigenerazione urbana attraverso lo sport di qualificazione di aree urbane per bambini, adulti e ragazzi diversamente con disabilità tant'è che oggi qui potete vedere la presenza dei bambini attraverso la scuola Martellotta che è partner del progetto, la presenza di ragazzi con disabilità intellettiva relazionale ed anche fisica con la presenza di cooperative sociali del territorio e a gruppi di anziani, adulti, un'area da dedicare alla collettività intera. Questo era l'intento primario del progetto Sport Civico che mi preme dire essere un progetto di caratura nazionale dove Taranto insieme a Matera rappresenta le uniche due realtà dell'intero Sud Italia su sette realtà sull'intero territorio nazionale. Non solo sport ma anche senso civico. Sì, esattamente, soprattutto senso civico perché noi parte del progetto è quella di sensibilizzare attraverso dei piccoli laboratori di educazione civica di sensibilizzazione con i ragazzini e i ragazzi della scuola quella che è la riqualificazione delle aree urbane come poter tenere in questo parco che parchi che noi sappiamo essere spesso oggetti di vandalizzazione di azioni poco consome a quella che dovrebbe essere la cultura di una città però attraverso questo progetto attraverso questi laboratori intendiamo educare le nuove elevi i nuovi ragazzi a saper gestire vivere e curare queste strutture. Bambini, buon Natale! E ora invece ci spostiamo a Brindisi dove scalda il cuore l'iniziativa di un fruttivendolo che ha creato un albero solidale per i bambini meno fortunati ergendosi ad eroe consapevole del Natale cittadino ce ne parla in questo servizio Riccardo Celli Questo ragazzo ha un cuore d'oro e ci sta invogliando a tutti a portare qualcosa per i bambini che hanno bisogno Babbo Natale di Brindisi si chiama Tommaso Di Giorgio ha 44 anni e fa il fruttivendolo o almeno questo è ciò che la maggior parte dei brindisini pensa in questi giorni Tommaso un fruttivendolo brindisino ha deciso di sua spontanea volontà di creare un albero della solidarietà ha costruito un albero di Natale con delle cassette usate per il trasporto della frutta ponendoci al di sotto tanti giochi per i bambini meno fortunati chiunque può prendere e può dare l'iniziativa nata per gioco come lui stesso ci racconta ha sin da subito fatto breccia nel cuore dei brindisini è uscita per gioco perché qui abbiamo all'ospedale di Suma ci sono varie associazioni persone down autistiche con problemi seri e quindi è partita tutto da loro grazie a loro c'era gente che mi portava qualche gioco che i figli non usavano più e li consegnavo a loro e loro vedevano che anche se erano piccoli o grandi vedevo che quel gesto li rendeva felici il finale del nostro incontro con Tommaso è la prova di quanto di buono ha fatto e continua a fare ecco questo questo è l'esempio vedi guarda che carino guarda grazie signora 630esima edizione del carnevale di Putignano presentate le prime tappe organizzative ci dice tutto nel servizio Francesco Russo ce l'abbiamo? no si è pronto un compleanno speciale per il carnevale di Putignano il più lungo d'Europa la Kermess presentata presso la presidenza della regione Puglia partirà il prossimo 26 dicembre con il rito delle propaggini per compiersi a febbraio prossimo con le quattro sfilate dei cari allegorici un carnevale così importante così lungo e prestigioso che si appresta anche a preparare il suo dossier per entrare nel per essere riconosciuto come patrimonio immateriale dell'umanità per noi proprio 630 anni di storia andavano in qualche modo celebrati anche con questo ulteriore impegno proprio un impegno della tradizione per far conoscere la tradizione e la cultura del nostro paese Alcuni dei bozzetti che saranno realizzati sono stati realizzati con l'intelligenza artificiale questo per capire come il carnevale viene è una fusione tra il passato la nostra tradizione ma anche quello che è il presente e il futuro Confermato la manifestazione il sostegno della regione con il fondo per i carnivali storici decurtato di 500 mila euro per lo scippo a detta del presidente Emiliano inflitto dal governo alla Puglia Il governo ha praticamente buttato la mano in tasca ai pugliesi si è preso 42 milioni per sistemare il suo bilancio un contributo diciamo feste patronali della ditta Meloni in fitto e in questo caso anche San Giuliano la cultura pugliese resiste anche alle chiacchiere del governo e cercheremo in tutti i modi di difendere le nostre tradizioni e anche il successo del turismo destagionalizzato pubblico e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale l'informazione di Telebari però prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it a tutti un buon proseguimento di giornata ben trovati da Nico Schiodetto previsioni per la giornata di sabato quando gran parte l'Europa centro-orientale continuerà a vedere delle perturbazioni con moto ovest verso est alta pressione invece sulla Spagna e su Portogallo ma nei prossimi giorni man mano interesserà gran parte dell'Europa meridionale andiamo al dettaglio per quanto riguarda l'Italia sarà una giornata in realtà abbastanza bella ultime precipitazioni sulle Alpi settentrionali poi tornerà a splendere il sole e soprattutto una lunga fase stabile che ci accompagnerà fino al Natale per il rinforzo all'alta pressione da ovest dalla Spagna in sintesi quindi la mappa dell'Italia è una giornata di cieli sereni o poco ingolosi le ultime precipitazioni sull'Alto Adige altrove bel tempo le temperature fino a 17 gradi al nord-ovest al centro-sud massime che uscilleranno mediamente tra i 14 e i 19 gradi tutti i dettagli precisi gli approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo